Nel corso dell'ultima settimana, su disposizione del questore di Vibo Valencia, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della polizia, che ha concentrato gli sforzi nelle zone della movida di Tropee e lungo la costa degli Dei. In questo contesto, la squadra mobile ha individuato un sospetto, che è apparso allarmata alla vista degli agenti, che hanno così deciso di vederci chiaro gli hanno, di fatti, ritrovato oltre 40 grammi di marijuana che aveva sia in dosso che in casa. La droga era suddivisa in buste in plastico, già predisposte per la vendita al dettaglio. Da qui la denuncia dell'uomo alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Un secondo soggetto, invece, sempre nell'area di Tropee, è stato trovato con una dose di droga e quindi segnalata alla Prefettura per la detenzione ad uso personale. Nel complesso è stato svolto anche un servizio di prevenzione in contrasto alla cosiddetta movida violenta, ancora a Tropee, impegnando la mobile, gli uomini del posto fisso locale e un'unità cinofila. Al setaccio sono passate diverse persone, ma anche dei veicoli sospetti, cosa che ha consentito in un'importante attività di prevenzione sull'abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida, eseguendo gli alcol test. In questo senso è stata segnalata una persona per guida in stato di ebbrezza, ritirata anche una patente.